Cosa è la scienza delle dipendenze? La scienza delle dipendenze è lo studio della dipendenza e del suo impatto sul cervello e sul corpo. Un certo numero di collegi e università hanno programmi di scienze delle dipendenze che svolgono ricerche e altri lavori in questo settore, così come le agenzie governative interessate alle questioni di salute pubblica. La ricerca condotta sulla dipendenza può essere applicata in diversi modi, dallo sviluppo di programmi di trattamento delle dipendenze migliori alla formazione delle forze dell'ordine per lavorare in modo più efficace e sicuro con persone che hanno problemi di dipendenza o abuso di sostanze. Storicamente, la dipendenza veniva spesso considerata un fallimento personale o morale. Nel XX secolo, la ricerca ha iniziato a dimostrare che non è questo il caso, e che in realtà la dipendenza è legata a una serie di fattori molto complicati. Un aspetto della scienza delle dipendenze riguarda lo studio dell'interazione di sostanze che creano dipendenza con il cervello e il corpo. La ricerca mostra che un certo numero di composti che creano dipendenza fanno cose come stimolare i centri del piacere del cervello, spiegando sia gli effetti di tali composti che la ragiona per cui le persone dipendono da loro. Col passare del tempo, le persone possono diventare desensibilizzate, richiedendo sempre più stimoli e portando ad una maggiore dipendenza da certe sostanze. La scienza delle dipendenze ha anche esplorato il ruolo della genetica nella dipendenza. Alcune famiglie sembrano avere tratti più avvincenti rispetto ad altre e alcuni geni specifici sono stati collegati alla dipendenza. Alcuni individui hanno un numero elevato di geni che contribuiscono alla dipendenza e possono trovare difficoltà ad evitare la dipendenza e l'abuso di sostanze. Anche l'ambiente sembra essere coinvolto. Alcuni studi scientifici di approfondimento esplorano argomenti come età di prima esposizione, dieta, stress e fattori di comunità che possono essere coinvolti in processi di dipendenza. L'obiettivo della ricerca sulle dipendenze è quello di imparare di più sui processi biologici della dipendenza, per determinare il motivo per cui alcune persone appaiono più suscettibili di altre e per sviluppare programmi di trattamento efficaci per le persone che lottano contro la dipendenza. La scienza delle dipendenze include anche uno studio sul modo in cui il coinvolgimento della comunità sotto forma di programmi di sensibilizzazione, educazione e applicazione della legge può ostacolare o aiutare lo sviluppo della dipendenza. Essere consapevoli della biologia della dipendenza può aiutare i ricercatori a capire come combatterlo nella società. Le persone interessate alla scienza delle dipendenze includono medici, consulenti sull'abuso di sostanze, psicologi e psichiatri, membri delle forze dell'ordine e educatori. Questo lavoro include aspetti di biologia, farmacologia, neurologia, sociologia e molto altre discipline che consentono alle persone di ricercare il ruolo delle droghe nel corpo, così come nella società.